Speriamo che finisca presto il campionato perché questo finale ci sta riservando una sconfitta dopo l'altra purtroppo sconfitte per certi versi anche un po' annunciate dall'aria strana che gira intorno al Bari, Bari improvvisamente nervoso, improvvisamente un po' svagato, insomma un finale che un po' rovina la stagione o meglio resta tutto quello che è accaduto però io lo chiamo l'incompiuta del Bari questo campionato nel senso grande potenzialità grandi partite ad un certo punto, grandi prospettive e un finale da ultimi della classe. Giulio Frisini ben ritrovato. Buonasera Enzo, giocato si è rotto sicuramente con la venuta salvezza e secondo me un po' di una porzione di colpo va sicuramente al mercato, uso impropriamente la parola di scassamento non di riparazione perché se prendevi giocatori che potevano dare un contributo maggiore o alimentare una certa concorrenza nella squadra sicuramente non ci sarebbe stato questo questo scollamento che c'è stato che effettivamente tutti quelli che abbiamo preso a a gennaio tranne le le forzate presenze di Castigli resta mai giocato nessuno. È chiaro che rispetto alla campagna di riparazione dell'anno scorso a gennaio scorso abbiamo avuto Guberti che ci ha dato nove gol e il problema purtroppo è quello e poi aggiungi questa questa precarietà di rapporti anche perché finora non era mai successo piccole discussioni degli spogliatori nonostante le smentite roba del genere. È chiaro che non vorrei che si sia spaccato il gruppo tra quelli che che praticamente ci tengono alle eventuali conferme chi o in presto e con proprietà si sente in dovere di 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 tirarsi indietro. Stai facendo soltanto un'ipotesi francamente non abbiamo come dire segnali di questo che stai dicendo va detto anche che dopo la presunta lite fra Almiron e Sforzini in allenamento diciamo attenendoci ai fatti ci fu anche un comunicato a firma di tutta la squadra dove parlavano di un gruppo compatto e smentivano assolutamente quel tipo di episodio. 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta telefonica. Tra un po' vi faremo ascoltare anche l'intervento di questa mattina di Perinetti in The Gang come sempre su Radio Bari 88.8 e poi abbiamo anche un'intervista avventura ma dobbiamo parlare di molte cose oggi. C'è un amico in linea pronto? Enzo? Sì. Ciao Daniele. Ciao Daniele. Ascolta Enzo. Noi non ci dobbiamo mai dimenticare che proveniamo dalla CDB. Sì. Dobbiamoci vedere la Fiorentina dove sta? Gli investimenti che ha creato la Fiorentina, gli investimenti che ha fatto il Parma, gli investimenti che ha fatto il Genova eccetera eccetera. Dunque io dico, ribadisco il concetto a tutti quanti tifosi, dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo essere superiore a tutto e a tutti. Poche parole a buoni intenditori. Grazie Daniele. Grazie Daniele per il tuo intervento. 080 501 9998 è giusta la riflessione che fa Daniele però spiace insomma vedere come dire questa stagione che poteva passare negli annali come stagione storica trasformarsi in una stagione quasi normale perché comunque resta la salvezza, resta la salvezza soprattutto conquistata con due mesi e mezzo d'anticipo. Però quel che mi dispiace di più è vedere e ascoltare certi giudizi sul Bari, insomma vedere anche dei personaggi importanti di questa stagione aver perso il sorriso. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Paolo Zappari. Ciao Paolo, ciao, ciao. Niente Enzo, è perché noi abbiamo fatto un campionato per salvarci? Ci siamo salvati tranquillamente. Però voglio riparire, non significa guardare la Fiorentina, il Palmo eccetera eccetera. Anche la Samp non ha comprato niente e sta andando alla coppa dei campioni. Non perché il Bari non poteva aspirare? E se non, arriviamo sempre la squadra e rimaniamo sempre là. Va bene, va bene, grazie, senza dimenticare comunque la Samp ha giocatori come Pazzini e Cassano che insomma tutto sommato sono i giocatori in più di questa squadra. Intanto immagini, immagini tratte da YouTube, un video della tifoseria del Bari all'Olimpico di Torino, tifoseria ancora una volta presente. Peraltro dovrebbe esserci anche l'episodio del petardo lanciato da un tifoso da Juventus che è stato fermato oggi, un tifoso di 27 anni, un tifoso novarese di 27 anni, il tifoso che ha lanciato il petardo verso il gruppo dei sostenitori del Bari. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Venerdì parlavamo, lo ricorderete, insomma come sempre, giocandoci un po' sopra, delle possibilità che Perinetti resti a Bari. Di sì o 51 sì, 49 no. Qui è come un po' il borsino, cambia tutto di ora in ora. Ho la sensazione che le quotazioni di Perinetti rispetto ad una sua permanenza a Bari siano in forte ribasso. Peraltro, quando abbiamo fatto quel borsino con Gianni Antonucci, non c'era ancora stato quello sfogo del presidente Matarrese sabato allo stadio che evidenzia un certo nervosismo da parte del numero uno della società bianco-rossa, evidenzia e io ne sono convinto come, insomma, un po' di dispiaccio, un po' si senta tradito, fra virgolette, dal suo braccio destro, perché insomma Perinetti era diventato un po' l'adetto Matarrese, Perinetti il Bari, una frase storica di Matarrese, non mi sembra che le cose stiano così in questo momento. Non so che notizie tu abbia. Ma io notizie non ne ho, so soltanto la cosa che tutta la programmazione fatta tra Ventura e Perinetti corre i rischi di andare a carta 48, perché questo è il momento più importante, per cui devi risolvere le comproprietà, devi andare a sviluppare eventuali trattative e a chiudere o a creare compromessi con quei calciatori che ritieni siano all'altezza della situazione. E' un periodo particolare anche perché il contratto di Perinetti è ancora valido per due anni, poi devi andare, mi auguro che non si giunga la rottura, però se si giunga la rottura non bisogna portare questa telenovela fino alla fine, perché corriamo il rischio di perdere tutto il tempo che abbiamo guadagnato con la salvezza anticipata, lo perdiamo a giugno in chiave futura per quanto concerne acquisti e vendite. C'è un'altra miglioligna, pronto? Sì, pronto, sono Franco. Ciao Franco, ciao. Ciao anche all'ospite. Devo semplicemente fare una considerazione, ieri ho stato lì allo stadio, quindi ho assistito... Ah, era Torino ieri? Sì, lo Torino, visto però una squadra ovviamente, soprattutto una squadra di secondo tempo, ma non c'è più, ma non c'è più non semplicemente da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista mentale, è evidente che c'è qualcosa che si è rotto, ma si è rotto ora indipendentemente dalle vicende proprio anche dall'attituzione fisica dei giocatori, c'è qualcosa che evidentemente ci sfugge o che meglio tutti riteniamo di conoscere, però nessuno vuole esternare, cioè è una società che ormai ha chiuso il suo ciclo, questa è la sensazione evidente che c'è per chi guarda lo scorrere di una partita, io ormai l'ho vista tutto quest'anno, è una scala discendente proprio chiara, c'è proprio nei giocatori, non dico in tutti... Hai detto scusa, hai detto una società che ha chiuso il suo ciclo o una squadra che ha chiuso il suo ciclo, non ho capito? No, io parlo più di una società che ha chiuso il suo ciclo, ha chiuso dal punto di vista dinamico, perché poi probabilmente rimarrà questa società perché non vedo chi possa ridurla, però dal punto di vista proprio del motivazionale evidentemente i giocatori che comunque sono dentro, anche se non parlano direttamente con la proprietà, però sono all'interno e vivono le sensazioni... Va bene, va bene, va bene, Franco è stato molto chiaro, proprio su questo c'è stato lo sfogo del presidente Mattarese, sabato Mattarese che ha detto, anch'io sognavo come tifosi l'Europa, non è vero che non vogliamo andarci, fermiamoci, pubblicità, poi ci ritroveremo insieme, abbiamo già pronto Perinetti con una sintesi di quello che ha detto questa mattina su Radio Bari, ma abbiamo anche un'intervista a Ventura, fra poco.